Siamo con Giuseppe La Selva dell'associazione Bacchi da Setola, promotori del laboratorio Immagini Sensibili. Volevamo subito chiederti di raccontarci un po' in che cosa consiste questo laboratorio. L'elaborazione di un nuovo concetto di video, cioè il video generalmente si intende quello che viene visto magari al cinema o in tv. Il video invece il studio di Azzurro ce l'ha fatto conoscere in modo trasversale, abbracciando diversi ambiti, spaziando dal teatro all'arte e al cinema stesso. Abbiamo individuato in Paolo Rosa in studio di Azzurro una sintesi perfetta di quello che poteva essere un percorso formativo. L'esperienza di Paolo può servire soprattutto a dare degli stimoli su come magari riformulare in maniera originale quelli che possono essere degli strumenti usuali e magari trovare delle forme originali per poter magari anche creare delle vere opportunità professionali. Siamo abbastanza contenti di questa esperienza. Siamo più di 50 iscritti. I feedback che stanno arrivando sono molto positivi. Ho visto i partecipanti molto stimolati dall'esperienza che ci sta portando Paolo con i suoi lavori. una grande novità anche dal punto di vista formativo. Vedere tanta gente che viene anche da diverse parti della regione. Quindi venire a Poignano non solo per il mare ma anche per fare una sorta di mini vacanza studio.